Prefetture di Grosseto e Siena insieme ad ADF per la legalità. Il prefetto di Grosseto Paolo Aberardino, quello di Siena Matilde Pirrera e il presidente di ADF Roberto Renai hanno siglato il protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. Un'iniziativa congiunta che dà un segnale forte e concreto su un tema di grande attualità e rilevanza economica e sociale. Questo è un momento storico dove c'è un grosso giro di affari e quindi bisogna assolutamente tutelare questo territorio che è sano e storicamente non presenta infiltrazioni criminali, non è stato comprovato in alcun modo quindi bisogna continuare a mantenere il territorio così com'è sano con questo senso di civiltà e di legalità. Il territorio è sano ma questi strumenti sono importanti per poter continuare ad avere un controllo sia dei rapporti così stretti con la stazione appaltante. Il protocollo accende un riflettore su tutto quello che è il percorso della legalità e le infiltrazioni mafiose nel nostro territorio e altri tipi di criminalità organizzata. Quest'anno noi abbiamo messo a terra 44 milioni di euro e credo siamo la centrale committenza più importante della provincia di Grosseto e tra le più importanti la provincia di Siena ma abbiamo raccolto anche 25 milioni e 6 di PNRR che dovremo poi mettere a terra entro il 2026. Capite una massa di denaro importante sulla quale noi come azienda già abbiamo attivato un percorso l'ISO 37001 e abbiamo anche attivato un percorso di autodisciplina per quanto riguarda la parte speciale del codice degli appalti.